Oggi iniziamo con una delle mie storiche ricette, anzi forse la più conosciuta in rete nel mondo. Mi atteggio per dirlo perché è realmente una ricetta che è stata fatta in ogni angolo del mondo per la sua estrema semplicità. Spaghettini, provolone del monoco grattugiato, sale, foglie di limoni, limoni e olio. Che se? Pochissimi, tre ingredienti. Allora partiamo, acqua calda. Allora, questa è una delle tecniche di cottura più semplice ma che può essere molto complicata se non si conosce la pasta. La pasta lunga viene cotta direttamente nel liquido, nell'acqua, senza passarla a bollire. Ovviamente questo è il formato, è lo spaghettino, il formato più sottile che si produce. L'unica, ripeto, l'unica pasta che va minestrata, cotta totalmente, perché questa è proprio la tecnica minestrata, come facevano le nostre nonne che mettevano la pasta cruda nella minestra, solo con lo spaghettino. Il limone, a raspare solo la parte gialla. Mi raccomando, è importante questo passaggio. I tempi di cottura della pasta sono sui sei minuti di questo formato, sei minuti e mezzo, per renderla quanto più al dente possibile, ma un al dente piacevole. Eccola qua. Un po' di sale e giusto un filo d'olio. Già mi sono portato avanti con i tempi. Ho delle foglie di limoni. Farò, completerò sei passaggi, ma cinque già li ho fatti, di 30 secondi, alla massima potenza del forno a microonde. Eccoci qua. Qua abbiamo la nostra foglia. Vedete? Diventa come carta pesta. Eccola qua. Spaghettino ci siamo quasi. Allora prendo il cucchiaio e vediamo il sale. Il sale è perfetto. Deve essere leggermente umido, non troppo accuso, altrimenti vi rilascerà quella acquarella sotto al piatto che non è piacevole. Ecco la consistenza. Un filo d'olio. Piatto molto sano, niente soffritto, niente di niente. Un bel cucchiaio di provolone grattugiato. Il restante della scorza di limoni. E ce lo andiamo a mantecare. Mettiamo giusto un goccio d'acqua per pulire la padella da questa salsetta fantastica. Ed eccoci qua. Ce lo stendiamo bene sui ribbi della porchetta. E così avremo un bel gomitolo. Lo andiamo a stringere, raccogliamo tutto il fondo che è la parte migliore. Eccola qua. Con una fantastica spolverata di foglie di limone. Spaghettina all'acqua di limone, olio e provolone. E che se? Grazie. Grazie. Grazie.